Ciao a tutti, Dreamlikemoon vi dà il benvenuto al nuovo episodio dell'erede di Foninfesta. È un tranquillo sabato in casa, tranquillo, tranquillo per i nostri, non tanto tranquillo per Cassandra che ora sta dormendo ma perché ha dormito poco questa notte, molto poco. Ecco, a causa ovviamente di ciò che è successo nell'ultima puntata di Cento Cuccioli che è stata a dir poco esilarante, però ha portato dei cambiamenti importanti per Cassandra, importanti perché li voleva. Ma finalmente Michael ha lasciato Candy, i giornali non parlano d'altro e infatti sì, non che la famiglia Charlotte ne sia preoccupata. L'unica cosa che Gabriel, non appena saputo, diciamo ha intimidito un attimo i Landgrab affinché non dicessero, i Landgrab senior ovviamente, che è stato Daniel a infilarsi nel letto di Candy. Per cui dite quello che volete su questo divorzio, ha detto Gabriel, ma non dite che c'entra mio fratello perché se no vi sguinzaglio contro tutti gli Charlotte e tutti gli alberghini. Per cui Landgrab hanno un po' le mani legate in questo caso, però sanno tutti che Malcolm ha lasciato la moglie Candy a causa di un tradimento. Alexander sta facendo una ricerca sulla febbre del roditore rabbioso perché è appena stato morso, voleva solo giocare col roditore, però è stato morso, quindi lui da bravo medico futuro veterinario, diciamo, fa una ricerca sulla febbre del roditore rabbioso. No, il taccuino non ce ne frega niente. Basta, non devi sapere altro. Perfetto. Allora adesso riproviamo a giocare insieme. Crosta ha però un po' girato, a quanto pare. Dovevamo cercare un nome per Remo, che va sicuro è un testone. I suoi tratti, ve lo dico subito, sono piantagrana, avventuroso e testardo. Cioè l'unica cosa di buona che è, è che è avventuroso. Per il resto davvero non fa mai quello che gli si dice, bisogna implorarlo di smettere di implorare cibo, di giocare coi rifiuti. È una cosa pazzesca questo cagnolino, piccolo ma tosto, insomma. Oh, sono anche arrivati i diritti d'autore di Martina, che ormai lo sappiamo guadagna di più di Gabriel, di suo marito. Lei, adesso che stava andando avanti questa famiglia, si stanno rilassando in generale. Le bollette sono arrivate, vabbè, pagale. E sì, diciamo oggi è una giornata così tranquilla, perché è sabato. Però Cassandra non sa che ha ricevuto un sms da qualcuno e lo scoprirà quando si sveglia. Anzi, svegliati tesoro, aspettiamo che tuo fratello abbia finito di usare... Tu non hai dormito stanotte, vai a dormire, dai. Missy si sta guardando crosta, come per dire... Ah sì, stavo finendo un discorso, scusate, mi sono persa. Allora, v'ho chiesto un nome per il nostro caro Remo. Me ne avete davvero consigliati tantissimi, uno più bello dell'altro. Cioè, vorrei sceglierli tutti, perché mi sono piaciuti tutti quanti un sacco. Ognuno per vari motivi, per motivi diversi, ecco. Però quello che mi ha colpito di più, e che è arrivato, diciamo, in un secondo momento, in un commento arrivato un po' dopo la pubblicazione dell'episodio precedente, mi ha colpito di più perché ha a che fare con questa famiglia. E quindi, io ho deciso che il nostro caro Remo si chiamerà Ghost Shallot, ed è perfetto per lui. E ringrazio tantissimo la mia cara amica Valuccia Sims, che è stata lei a consigliarmi questo nome, perché è il nome perfetto per il cane degli Shallot. Vediamo di mettergli un collare anche, nero. Perfetto. Questo ce lo vedo, a dire il vero. Sì, 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 ci vedo questo. Altro che, perché è davvero un piccolo testardo rompiscatole lui. Che faccia della serie. Sono io il maschio e dominante in questa famiglia. Va bene, allora, torniamo in casa. E quindi, grazie mille a tutti, davvero, per i nomi, uno più bello dell'altro. Grazie mille. E grazie Valuccia Sims per questa splendida idea, per il nome del cagnolino di Alex. Allora, dicevo, la nostra Cassandra si è appena svegliata. Cosa ci fai in camera di tuo fratello, scusa? Osserva il certificato di nascita? Ma che te ne fai, scusa? Vabbè. Senti, Alex, volevo parlarti di lui. Buonanotte, Cassie. Ma è mattina, sono le dieci e mezza. Buonanotte, ho detto. Vabbè, ok. Sì, lei è un po', diciamo, si certifica che Alexander è un maschietto sano. Va bene. Ok, grazie per averlo certificato. Non ci saremo arrivati. Perché vuole confidarsi con qualcuno rispetto a questa storia. E vabbè, mentre è in bagno, controlla i messaggi e vede che le è arrivato un messaggio da Elsa. E quindi le risponde. È Elsa che dice, eh sì, ho visto, insomma, che sarei contenta, no? Tutti i giornali ne parlano, congratulazioni. E lei gli risponde, Elsa, per favore, da tanto che non mi scrivi. E adesso, ti prego, non usare questo tono caustico. Pensi che a me non pesi questa cosa? Eh già, sì, a lei pesa. Però, si è fatta la volontà di sua nonna. Erano le sue ultime volontà. E quindi lei sentiva che doveva farlo. Datti una sistemata, tesoro. E poi anche datti la carica. Per chi si sistema non lo sa nemmeno lei. Se per Malcolm o per Elsa. Non lo sa, non ne ha idea. Lei semplicemente vuole essere bella. Sa che con Elsa non potrà avere un futuro. Ma almeno si deve sposare Malcolm che sia decente. Anche perché se dovranno mettere in cantiere degli eredi. Ovviamente, quando si sposeranno, tutti penseranno che è per amore. Perché c'è qualcosa. Per cui dovranno anche avere degli eredi. Per quanto l'idea le faccia schifo. Infatti si sta dando la carica. Dai, Cassie. Ce l'hai fatta. Non c'è nulla in questo mondo che non puoi fare. Dopo questa, puoi fare davvero tutto quanto. Oggi è il monosco e fa un po' i capricci. Per cui sì, adesso è fiduciosa. E diciamo che vuole chiacchierare. O meglio, andare in giro. Per cui viaggia con qualcuno. Lo vuole invitare a fare colazione fuori. Che io ovviamente. Malcolm. Perché è vero, sono amici. Abbiamo visto nell'ultimo episodio di Cento Cuccioli. Nello scorso episodio, per l'appunto. Che sono diventati tutti pappa e ciccia questi due. È impressionante come adesso se le intendono. Due acerrimi nemici. Che però sono uniti da qualcosa. Anzi, da più che qualcosa. Andiamo a fare colazione qua o qua? Io preferisco questo. Lepre, porco, spino. Vai. Perché il fatto di qualizzarsi per fare in modo che Malcolm potesse divorziare da Candy. E poi sapere che si sposerà con Cassandra solo per facciata. E che quindi non sarà per lui un problema far quel cavolo che vuole come anche per Cassandra. Ecco sì, tutti e due con le scatole girate. Molto bene. Però questa cosa, questa situazione comune, li ha avvicinati. Ops. Ops. Questo non era previsto. Cambiamo posto, va. Anche se questo caffè non mi piace tantissimo, non mi fa impazzire, ma... Sì, è pieno di libri e schifezze. Ma cos'è questo schifo, ragazzi? Ma è possibile? Oh, c'è anche zio Ale. Bene. Qua è il club che mette tutti i libri ovunque in disordine. Tenetevi lì nella vostra saletta i libri, per favore, ragazzi. Dovrò modificare questo lotto, non mi fa impazzire. Insomma, sì, c'è anche zio Alessandro. Vabbè, quello lascialo lì. Per cui... Dove sta andando Michael? Altre scelte? Facciamo che lo abbraccia. Ah, oggi è anche la risa di quartiere, vabbè. Ciao zio, che bello vederti. Anche tu ha colazione qua. Eh, sì. Vediamo se ce la facciamo. Cappuccino. Ti vedo bella come una statua. Cosa hai fatto? Sei molto più rilassata in viso ultimamente. E chissà perché. Allora, che racconti al tuo vecchio zio? Beh, vecchio. È più giovane di sua madre, vabbè. Ma che mi racconti tu, zio? Tutto bene, casa? Oh, senti. Preparatela tu la bevanda. Fai prima. Fatti il cappuccino, va. Davvero fai prima. Parla di arte. Perfetto. Allora, Malcolm. Dormito bene? Per la prima volta? Senza quella arpia nel tuo letto? Eh, sì. Sai, ho le scatole un po' girate. Perché i giornali, sai, ne parlano tutti stamattina. Eh, vabbè. E devi aspettartelo. Senti, lascia stare, tesoro. Debuggati, per favore. Mamma mia. Aspettiamo che il barista cominci a voler... Sono tutti bagati qua, mi sa. Bella uscita. Rendilo vege sim, no. Debuggati anche tu. Tutti debuggati, tesoro. Vai qui. Ah, raduno fra un'ora. E qua nessuno che fa niente? Ah, scusate. Mi sa che qua dobbiamo arrangiarci. Ci rivediamo più tardi, mi sa. O comunque, vabbè, Cassandra scappa a casa. Facciamo per... Perché appunto deve andare a prepararsi per gli scout. Anzi, chiama Michael. Scusate, ma questi bug purtroppo sono inevitabili a volte. E sì, vogliono cercare magari un momento tranquillo, un angolino tranquillo dove parlare. Forse a casa ce la facciamo. Forse a casa ce la facciamo. Per cui... Aggiungi al gruppo e... No, calcia. Siediti insieme. Dai, vieni, parliamone qua a casa mia. Che facciamo prima? Lontani dalle orecchie indiscrete degli altri. Eh, però dovresti rimanere seduta, tesoro. No, non rimane seduta perché... Vabbè, nemmeno io rimarrei seduta a un tavolo con uno che ha una faccia del genere. Quindi... Rallegra? Beh, dai, adesso sei libero, no? Siamo liberi di fare quello che avevamo programmato, giusto? Dai, fammi un sorriso. Ci sposiamo? Eh, sì, lo so che dovremmo sposarci, però sai, dopo questo matrimonio non è più la cosa che preferisco pensare del mio futuro. Ma che cosa stai dicendo? Potremmo davvero fare quello che vogliamo? Te l'assicuro. Non sarà più un'immondizia la nostra vita. Prima eri obbligato. Io non ti obbligherò mai a fare nulla. L'importante è che anche tu non mi obbligherai a fare qualcosa in un certo modo. Dai! Sarà solo una facciata, te l'assicuro. Io non sarò un peso come Candy. Anzi, se vorrei potrai prendere un aereo e viaggiare per tutta la tua vita senza nemmeno mai vederci. Beh, ma a me dà fastidio quello che dico nei giornali, sai? Perché dovrebbero occuparsi più di sport, non di quello che fanno i personaggi famosi come me. Non come noi, eh? Lei non l'ha tirata dentro, non gliene frega niente. Vabbè, ma non preoccuparti, anche su di me scrivono ogni tanto. Anche se non hanno nulla da dire, perché sai, l'importante è non fare sciocchezze e se le fai farle di nascosta, hai capito? Il tuo problema è che hai voluto davvero strafare, non sei stato attento e quindi hai dovuto liberare un cassettone per una tizia che nemmeno conoscevi. Sai com'è? Lo so, non sono stato attento, sono stato uno stupido, lo so benissimo. Ti ringrazio anzi per avermi fatto rivedere il sole dopo così tanta pioggia, però a me dà fastidio che si parli male della mia famiglia. Ho capito che ti dà fastidio, ma pensi che questa cosa, cioè pensi che avrebbero, non so, potuto scoprirci. Cioè, non sono ciechi, lo avrebbero potuto vedere, pure io sono stata attenta quando ho creato il mio piano, cosa che tu non sei stato, per cui quando saremo sposati dovrai stare molto più attento. Vuoi fare le cavolate? Falle, ma non mettermi in mezzo se no ti distruggo, hai capito? Sì, va bene. Oh, buongiorno, di che state parlando, ragazzi? Ah, ciao, mamma. Buongiorno, signora Charlotte, o dovrei dire alberghini, o che cosa vuole. E lei? Ah, sì, piccolo pivello. Pensa pure a quello che vuoi di me. Insomma, è venuta a congratularsi per la guerra che sta scoppiando a casa mia, sui giornali e tutto quanto. Oh, non ti preoccupare, è stata quasi una barzelletta a convincere i tuoi a non dire che Daniel era coinvolto in questo scandalo. Sa, vorrei traslocare, anzi, se vuole mi trasloco direttamente qua, così non dovrò più avere a che fare con i giornali che sono appostati come dei lama. Quei giornalisti sono dei lama, sì, appostati fuori da casa mia da ieri sera. Eh, ma sai, tu non sei stato propriamente dolce con Candy, sai, se tu fossi stato un po' più furbo, altro che trasloco, avresti potuto, avresti potuto rimanere lì e senza nessuno tra i piedi. Invece adesso ti tocca prendere un aereo e scappare. Insomma, anche lei ci si mette con me, eh, signora Charlotte, proprio sono stato io l'unico cattivo in questa storia. Alla faccia di tutti, sì, sei stato l'unico cretino, più che altro. Va bene, io adesso vado, buona giornata. Eh, sì, Martina ha le sue piccole rivincite ogni tanto. Lo sappiamo che lei odia perfettamente questo ragazzo. Però io direi che cucini qualcosa. E c'è un melanzane in agrodolce, buono. E però ci vediamo quando Cassandra torna dal raduno degli scout. Cassandra appena tornata dal raduno degli scout, è stata una giornata fantastica, si fa un selfie e prendendo in mano il telefono, vede che Elsa finalmente ha risposto. Cioè, maestro, a rispondere. Tantissimo. E Elsa le chiede, ti prego, devo vederti, dobbiamo assolutamente parlare perché io non ce la faccio più. Ti prego, vediamoci da qualche parte. E lei risponde, va bene, so io dove portarti. Andremo dove dico io, ok? Allora ci incontriamo lì tra poco, hai capito? Mi raccomando non mancare, non farmi scherzi. E sì, perché ha deciso di portarla alla tenuta. Almeno è un posto sicuro che lei conosce e soprattutto dove sa che possono parlare lontane da orecchie indiscrete. Vabbè, a seconda di chi c'è lì, però lei conosce tutti i luoghi della tenuta e quindi sa eventualmente dove andare a nascondersi. Le uniche orecchie che potrebbero sentire davvero sono quelle di nonna Mimsy e nonno Bernard. Però non è un problema. Quindi questi sono i tuoi bis, 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 nonni, giusto? Sì, qualcosa del genere. E quindi la prima cosa che fanno, non appena si rivedono, lei va ad abbracciarla. Eh, lo so. Lo so, lo so Cassandra. Elsa, sono felice che tu mamma hai chiesto di parlare perché sai io non ce la faccio più a non parlarti più, a stare lontana. Anch'io non ce la faccio più. Davvero non so come faccio a scuola a restarti lontana. È per questo che ti ho chiesto di parlare. Lo so. Andiamo dentro, dai. E allora entreranno nella tenuta e andranno magari, speriamo che non ci sia nessuno, a sedersi qua. Anzi qua. Che è un po' più apportato. Siediti e chiacchiera qui. Allora, ho saputo di ciò che è accaduto? Anche tu penso che l'avrai saputo. Beh sì, ne sa qualcosa. Diciamo, la mia famiglia è stata vicina in questa situazione ai Landgrab. Eh sì, molto più vicina di quello che Elsa può pensare. Allora, sei contenta, eh? Immagino che adesso tutti i tuoi piani andranno alla perfezione, no? Sembrava che non dovessi più sposare quel Landgrab che a te piace tanto, ma in realtà che mi piace. Non dire scemenza Elsa, lo sai chi piace davvero a me. E sì, guarda, comunque questa situazione, ma tutta la mia vita in realtà è più una partita di baseball. Bisogna lanciare la palla e vincere, capito? Purtroppo io sono una shallot alberghini, non posso fare quello che voglio nella mia vita. Ho dei doveri, delle regole da seguire, purtroppo per gli occhi della società, hai capito? Sì, giusto, mentre io non sono niente, quindi non ti puoi sposare con me, giusto? Non dire sciocchezze. Sai, è una musica che tutti hanno dovuto ascoltare nella mia famiglia. E magari un giorno le cose cambieranno, ma purtroppo, sai, era mia nonna che lo voleva e io non voglio deludere mia nonna. Quindi nessun rimpianto, eh? Non avrai mai nessun rimpianto. Rimpianti. Eh sì, certo, tu, la grande critica d'arte sposata con il grande Landgrab. E una vita bella in una casa bella, con tanti soldi. Insomma, nessun rimpianto, vero? Guarda, non è proprio così. Io avrò un sacco di rimpianti. Ah sì? Davvero? Dimostramelo. Ah, davvero? Devo dimostrartelo? Va bene. E allora, la bacerà? C'è pure il festival dell'idiglio. Patate. Nessun rimpianto, dicevi? Fatti vedere. Quanto non avrò rimpianti. E poi amoreggia. Vieni qua. Che te lo spiego io. Che non avrò rimpianti. Eh già. Eh già. Ti prego, resta con me questa notte. Perché per me è difficile, lo sai. Rimandiamo qua. Dirò ai miei che sono venuta alla tenuta per stare un po' in pace con me stessa. Però ti prego, rimani con me. Questa notte non voglio lasciarti. Perché ieri... O meglio, la notte scorsa il mio destino è stato deciso. Però, sai, io non sono così forte come tutti credono. Rimpianti, certo, ne avrà un sacco. Però va fatto quello che va fatto. E lei... Insomma, un po' si scioglia queste parole. Sa benissimo che Cassandra la ama. Lei la ama alla follia. Insomma, lei vorrebbe tantissimo che Michaelman non ci fosse. Moriste, scomparisse. E... E appena smettono di baciarsi... Lasciamole un po' alla loro intimità. Spero davvero che Candy lo ammazzi. Ma non dire sciocchezze. Così non dovrei rimanere con lui per forza, giusto? E potremmo sposarci noi due. Lei dice... Sai cosa, tesoro? Ehm... Baccia sul collo. E poi... Accarezza la guancia. Sai cosa? Purtroppo i miei sono all'antica. Anche se non sposassi Landgrab. Vieni qua, però. E anche se non sposassi Landgrab, non credo che potrei sposare te, cuore mio. Davvero, sono così all'antica e tu hai... Beh, allora è un bene che tu debba sposare Landgrab. L'importante è che tu senta che hai fatto quello che dovevi fare. Che tu sia fiera delle tue scelte. Non voglio essere causa del tuo imbarazzo. Tu non potrai mai essere causa di imbarazzo per me. Però sai... Io di certo... Non posso essere... Quello che voglio. Devo solo mostrare una facciata pulita. Però per il resto io posso amare chi voglio, giusto? Il cuore non si comanda. Con te ho dimenticato questa bruttissima giornata. Queste bruttissime giornate che... Sai, sono state molto... Questo periodo in generale è stato molto difficile per me. E sono felice che tu sia qua. Beh, spero che non mi dovrai più tirare bidonate. Rimarremo amiche, vero? Senza bidonate? Amiche di letto, vuoi dire? No, Cassandra. Una cosa o l'altra. Beh, però, finché non sono sposata, nessuno ci vieta di fare quello che vogliamo, giusto, tesoro? Questa notte è solo per noi. Ti prego, cerca di capirmi. Io quando sarò sposata non potrò più fare quello che... Sono libera di fare ora. E finché non c'è nessuno qua? Davvero? E finché non c'è nessun contratto matrimoniale? Possiamo fare quello che vogliamo. Per cui adesso rivelerà un segreto recondito. Sai, io vorrei tanto. Eh sì. Eh sì. Tra l'altro è sparito il fai una scappatella. Non c'è più scritto fai una scappatella. L'hanno tolto. O è un bug o l'hanno tolto. Sai, io vorrei tanto che la mia prima volta sia con te, non con Lycom. Per cui prima che io compia gli anni e debba sposarmi, ti prego, concedimi quest'onore. E lei ci rimane. Davvero? Cassandra, mi stai chiedendo questo. Ma io non aspetto altro. Davvero. Ti prego, allora. Esadisci questo mio ultimo desiderio da nubile. Beh, come se dovessi sposarti domani, Cassandra. Ma perché non manca tanto? Anzi, quanto manca? È martedì. No, lunedì. E oggi è sabato. Oh, ma che carine. Oggi è sabato in tutti i sensi, davvero. Ma che carine. Guardatele. Oh. Io le adoro. Creiamo, ecco. Creiamo una bella atmosfera. Che sta succedendo? Tutte le luci. Luci automatiche, no? Spegni tutte le luci. E accendi questa luce. E basta. E creiamo questa atmosfera romantica. Eh sì. E questa notte sarà una notte solo per le ragazze. Solo per loro due. È giusto così? Anche Elsa non vedeva l'ora ed è giusto che Cassandra possa avere la prima volta che davvero desidera con la persona che ama. Questo non volevo negarglielo. Sinceramente. E spero che voi siate d'accordo. Flirta con qualcuno. Con qualcuno, eh. Eh sì. e già dormono. Dai ragazzi, volevo farvi una bella foto. E quindi sì, loro restano qui a farsi le coccole un bel po'. Buona parte della notte. e trascorreranno questa notte insieme. Magari facendolo anche più e più volte esplorandosi a vicenda. Perché questa lo sanno entrambe è l'ultima occasione che hanno da trascorrere insieme prima che Cassandra abbia l'età giusta per sposarsi. L'età giusta tra l'altro prima di diventare maggiorenne. Perché lei lo sa benissimo che non esattamente il giorno del suo compleanno ma pochissimo dopo fate fichi fichi, dai. Ma pochissimo dopo lei dovrà sposarsi. Lo sa perfettamente. E quindi sì. Hanno fatto bene a prendersi una notte per loro candy. Sei ovunque come il prezzemolo ultimamente. anche se la tenuta ha sempre dei visitatori e anzi si dovrebbero anche mangiare qualcosa in effetti. Potresti preparare qualcosa poi per Elsa anche in effetti. E quindi io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Oh! C'è zio Daniel che è venuto a controllare la situazione. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è così mettete mi piace commentate che a me fa sempre molto piacere iscrivetevi se siete nuovi per continuare a seguire le peripezie di questa famiglia e soprattutto andate in descrizione dove potete trovare tutti i link ai social per cui Instagram Facebook blog dedicato a The Sims trovate anche tutte le playlist delle serie che sto facendo non solo con The Sims ma anche altri videogiochi così se volete guardare qualcosa di nuovo o vi siete persi una puntata di una serie potete andare a recuperare e trovate anche soprattutto il link ai canali dei miei amici youtubers che vi invito a seguire perché sono molto molto bravi per cui andate in descrizione e seguite tutti quanti. Detto questo io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda stupenda giornata ciao a tutti